Lei ha cambiato il modo di vedere i giovani dopo che li ha frequentati tanto in questi due anni? Beh, devo dire che io sono stato molto con i giovani, anche se il mio ruolo era quello istituzionale. Fin da ragazzo, anche quando ero giovane sacerdote. Ma oggi veramente vedo una gioventù completamente diversa, nuova e aperta a tutto. Anche ai rischi, anche ai pericoli. Però quello che noi vogliamo vedere è di dare spazio e fiducia.